Via libera al protocollo di legalità tra la prefettura di Potenza e Dance Basilicata, la quale ha ufficializzato l'adesione al protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nel settore edile, stipulato tra Ministero dell'Interno ed Associazione Nazionale dei Costruttori Edili. Nonostante emerso, rassicuri il numero complessivo delle liberatorie rilasciate dalla prefettura, passate da 3.120 nel 2023 a 3.191 nei primi dieci mesi 2024, si punta a non abbassare la guardia per preservare il tessuto economico potentino dal rischio di infiltrazioni criminali con potenziali nuove segnalazioni o interdittive proprio in un settore storicamente a rischio. Previsto dal documento, la prefettura ha rilasciato le credenziali necessarie a Dance Basilicata per l'accesso alla Banca Dati Nazionale Unica per la documentazione antimafia. Sensibile incremento del numero delle interdittive sul settore edile. Nel 2023 sul totale complessivo di 19 misure di prevenzione amministrativa sono state 3 quelle che hanno riguardato il settore edile. Nel corso di quest'anno, del 2024, le misure di prevenzione amministrativa sono state complessivamente per il settore edile 7. E questo sicuramente è uno strumento che rafforza ulteriormente le misure di cautela. Ci abbiamo tenuto a sottoscriverlo, abbiamo già sentito alcuni nostri associati hanno dato tutti la loro disponibilità a far parte di questo protocollo quindi speriamo che problemi non ce ne siano ma che comunque questo protocollo possa sicuramente garantire e favorire la cultura della legalità nel nostro sistema imprenditoriale.